Sabato, un cantante mascherato farà parlare di sé. I rete stanno tutti impazzando per scoprire chi sia. Il suo nome è Nobadi, nessuno. Il mistero fa parte del suo pascio. Ma non a tutti piace. Non dirmi che anche tu sei un fan di quel pupazzo. Sorpresa! Ritornerà Emma. Eh, Emma. Se fossi nella band poi... Sì, ma non ci sono. C'è Linda. Se avessi saputo che eri così noioso, non ci sarai persa dietro per due anni. Se avessi saputo che puoi essere così simpatica, non sarei scappata per due anni. Anche Sam si comporta in modo strano. Cosa ne faccio di una borsa di studio? Adesso sono un cantante. E Alex... Sam, Christian, vi devo dire una cosa importante. Cosa deve dire di così importante? Scoprite lo sabato alle 14 nel nuovo doppio episodio di Alex & Co. Solo a Disney Channel.